Grande vittoria su un campo difficile, un campo piccolo, molto pesante contro una squadra che comunque ha sempre dato difficoltà anche tra virgolette alle grandi, settimana scorsa ha pareggiato a Empoli, quindi insomma sono un'ottima squadra e tre punti qua sono pesantissimi, allunghiamo ancora in campionato, è vero manca tanto però noi facciamo il nostro percorso che vince ogni partita. Venivamo da un periodo un po' particolare in trasferta dove facevamo fatica a raccogliere vittorie, questa è una vittoria importantissima perché è un campo difficile dove secondo me tante squadre ci perderanno dei punti, quindi ottima prova di tutta la squadra, della difesa, dell'attacco, insomma ripeto tre punti veramente importanti. Stiamo diventando una squadra veramente importante e devo dire che anche da dietro quest'anno sono cambiate tante cose, c'è più solidità sicuramente e poi ogni volta magari non prendere gol aiuta a creare consapevolezza e sappiamo che siamo forti sia dietro che davanti quindi bisogna continuare solo su questa strada. Anche c'è da dire insomma tutti questi tifosi che vengono in una trasferta così anche complicata perché insomma raggiungere lo stadio non è facile, la trasferta e tutto quindi c'è solo da applaudirli che ci seguono sempre sia in casa che in trasferta e ci danno quella spinta in più quindi che dire questa vittoria va anche a loro ecco.